Ciao a tutti, stasera 2 più 1, nostro avversario 2106, eccoli lì, vediamo con cosa ci sorprenderà, c4, apertura inglese, cavallo f6, e g5, facciamo un po' queste mossa alla garibaldina molto frizzantine. Allora, l'idea è sempre quella di giocare in uno schema tipo Pierce, però anziché avere il pedone in g6 lo blocchiamo direttamente in g5, e poi si vede. Non ci preoccupiamo di un'eventuale doppiatura dei pedoni sulla E, manteniamo l'alfiere su questa diagonale, lo spostiamo per controllare questa, questo pezzo svolge anche un'ottima funzione difensiva, torre 8, contrastiamo in qualche modo, e anche noi ci doppiamo sulla F, però ci spalanchiamo la colonna per far entrare la torre, qui probabilmente il bianco sperava in un f5 e donna g7 matto, non è seguita questa mossa, qui cambiamo un po' di pezzi facendo attenzione al fatto che il pedone A7 potrebbe essere in presa, in caso di subito torre 8, quindi la prepariamo, la ripresa è praticamente forzata, spazzata, adesso si può spingere il pedone F, come struttura pedonale il bianco sta meglio, come tempo, vediamo un po', come tempo è meglio messo dalla Keymaster. Allora, qui la ripresa è d'obbligo, qui si continua a premere, A5, visto che subito torre 8 non si può giocare perché sarebbe caduto questo pedone, Adesso qui la posizione sembra decisamente pari, essendoci pochi pezzi il nero può giocare con nonchalance, don F6, e addirittura questi quattro pedoni, essendo su casa chiara, possono essere facilmente attaccati. Interroghiamo l'alfiere in d7 e adesso facciamo entrare la nostra torre in gioco attraverso la colonna H. Considerato che il re nero può entrare sulle case scure per attaccare la base della catena pedonale dell'avversario, il cambio di torri potrebbe essere un piano sensato. Tutto sta nel capire se il bianco ha la possibilità di impedire questa manovra al monarca nero. Qui intanto si attacca, bisogna solo fare attenzione a non farselo intrappolare quest'alfiere. Alfiere A2, re C2 sarebbe intrappolato, prematura. Spingiamo in F5. Spingiamo in F4. Togliamo anche questa casa al re bianco. E adesso qui come si può migliorare la posizione? Un piano potrebbe essere questo, A4. E adesso questo qui sembra debole. E noi lo mangiamo, ma lo mangiamo subito? O lo mangiamo dopo? Mangiamolo subito. Continuiamo a tenere sotto attacco un pedone avversario, che se ne sbarrazza in questo modo, è game over. Allora, come vedete, in una posizione apparentemente pari, e probabilmente lo era proprio pari, però anche qui ci sono dei piccoli elementi da considerare nella posizione che possono fare la differenza. Nel caso specifico è stata la capacità di valutare la debolezza dei pedoni, perché si trovavano sullo stesso colore dell'alfiere bianco, case chiare, e quindi di fatto, non essendoci un controllo delle case scure, né da parte dei pedoni, né da parte dell'alfiere, il re nero ha avuto la possibilità di minacciare l'ingresso attraverso il centro. Centro che si è conquistato dopo il cambio delle donne in F6, e dopo aver cambiato le torri, in quanto la torre avversaria contrastava in qualche modo il piano di Lucky Master per entrare fino alla base della struttura pedonale. Dopodiché, con le opportune spinte di pedone sul lato di donna, ha indebolito la struttura pedonale dell'avversario, fino a catturare pedoni acquisendo vantaggio materiale. Con questo, dalla Key Master si porta a 2174. Pian pianino ritorna sui 2002. Spero che la partita vi sia piaciuta, se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e alla prossima. Auguro una buona serata a tutti.